Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Stray, incontriamo Clementine, che finalmente lo stavamo cercando da un po', e inoltre ci intrufoliamo dentro un nightclub dopo essere rincorsi tipo dalle guardie. Vabbè ragazzi, io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, vi lascio al video. Oh, tre puntini è qua sopra. Ok. Tre puntini uno, tre puntini due, tre puntini tre. Tre puntini quattro. E tre puntini cinque. Oh, fra... Clementine. Oh, 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 oh. Sono un gatto, frate. Ok, ti seguo. Ok. 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 Aspetta aspetta Com'è che era il tipo? Robot con il giubbotto E la catena dorata Un maranza C'ha il blower Perché posso entrare? Cos'è? 2458 Edok Cos'è 245 Edok Ecco cos'è 245 Com'è? 2458 2458 Doc Ah è Edo c'è code Quindi è code Ah è al contrario 8542 854 854 2 Ok Oh spilla Collezionabile? Easy Easy Ciao Ciao Chi c'è qua? Giubbotto Ah raga è enorme Sta zona Ah di là ci sono i maranza Qua c'è il bar Bar Tu Sei tu Bella Bella Allora un gilet Io l'ho visto prima Vi ricordate Al negozio? Al negozio Eccolo qua Ma quanto Per cosa me lo fai questo? Ah me lo rubi proprio Ehi Scusa fra Non volevo Mi sa che dobbiamo fare casino Vai Esatto Ruba Aia mi fanno male le orecchie Easy Via 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 Ok E il casco Non so dove recuperartelo Però frate Mi dispiace Allora Devo cercare Un Un negozio di cappelli Shop Street Wait Shop Street No Questo è Shop Street Ma a me serve Anche quello Dei cappelli Eccolo Cappelli Wow Devo trovare un metodo alternativo Devo cercare un modo per entrare Ho un'idea Al bar E ma dov'è il bar Beh Non so Penso sia questo Eccolo qua Orco Mi sa che è il tipo Che stiamo cercando Ho come l'impressione Ah vai Svegliamolo Dai Fagli cadere le birre Addosso Ah è lui che deve andare a lavorare Ok Seguiamolo E ora lui ci dovrebbe portare dal collega Sta un po' modificato Ah buttiamoci lì dentro Vai Dai Dai e ora ce la facciamo Finalmente Cerchiamo di non miagolare Dai dai Tirami in su dai Non miagoliamo E voilà Siamo dentro Ah ci serve un cappello Un cappello modificato No non modificato Ma da Ah là 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 Ruba Corri fuori Ok Ce l'abbiamo fatta E abbiamo Anche il Cappello Adesso dobbiamo andare Ehm Qui c'è il veicolo Il coso degli abbiamenti Quindi qui Bella frate Bella blazer Dai Vai Ok Adesso però io non so bene Cosa dobbiamo fare Ok Dai Dai eh Ma vediamo di non miagolare Ma io non ho ancora capito dove ci stanno portando comunque Dai adesso vediamo se riusciamo a superare effettivamente i controlli O se verremo bloccati alla dogana Oh oh No No Sì sì no È pulitissimo Non c'è niente dentro Semiagolo ora Tipo Aspetta Ah non posso Ok Saltiamo fuori Piglia la botte Se rompe Dai Ok Noi possiamo andare Ma da che Porca miseria Oh ehi E dove cazzo mi metto Aia Ok Non Non avevo visto Porca miseria Aia Mi ha fatto abbastanza male Allora aspettiamo che quella Vai 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 No è da che parte Ah di qua Vai dentro dentro Vai 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 Ci abbiamo fatto ok Adesso Ok Ok Oh oh Ok Adesso andiamo di qua Vai vai E voilà Ce l'abbiamo fatta Ok Adesso Continuiamo ad andare Questa viene di qui Oh Oh Che ne sera Bro Oh oh Delle chiavi Eh ma come faccio ad aiutarti Bro Proviamo a vedere Da questa parte Si può scendere Oddio Non è proprio consigliato Mi sa Oh cosa Wow Se muovo questo Eh no Loro mi spottano Ah no 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 Beh allora io faccio così Teac Vabbè Se no Lo posso Lo posso lasciare Direttamente Così Et voilà Ok Ora Cosa devo fare Attiva Disattiva Cos'è Ah mi segue No Allora mi sa Che Allora mi serve Questo qui Perché Si Follow me bro Perché devo saltare Da quella parte Vieni Adesso cadiamo Da questa parte Attiva Tiriamo La leva E voilà Ah posso Portarne solo Una alla volta Ok Devo usare Il barile Probabile E voilà Batteria Oh 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 Ora le sentinelle Verranno qui Usciamo da qui Prima che sbuchino Le sentinelle Corri 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 Da che parte Di qua Vai Mi dispiace Per le chiavi Amico Ce l'abbiamo Fatta Dai Adesso Dobbiamo tornare Da Clementine Che non mi ricordo Dove abita Ah no Li hanno No Clementine Hanno preso Clementine Cazzarola Ci sono le sentinelle Clementine No L'hanno sgamato Eh dobbiamo salire Andiamo ragazzi Clementine Che non mi ricordo minimamente dove abitavi Ma Clementine Di là Di là Tre puntini era Sì sì Me lo ricordo E di lì come si fa Di qua si saliva E così era Orca miseria Ok Siamo arrivati a casa Di Clementine Perlomeno Clementine Yo Oh oh No Clementine E mi sa che l'hanno presa Ragazzi Guarda Ma che cade gli indizi Per B12 E il micio La risposta È nella mia roba Forse ci sono Quattro indizi Che dobbiamo cercare Allora Il primo è un vaso Con una pianta Sopra Ispezioniamo qui Allora vai Sono con Ah Almeno non è da solo No Ehi là sopra Nightclub Ok Che cosa abbiamo Oh Venite al Ok Dai 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 Ragazzi Non perdiamo tempo Cazzarola Senza farci sgamare Però Allora Il nightclub Dovrebbe essere Da queste parti Adesso Io vado Qua Arrampicarci 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 Sul retro Arrampicarci Sul retro Ok Ce l'abbiamo fatta Questo qui Sta Sta drippando Oh Fradam Presentati Ok Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Quindi adesso Entriamo in sto nightclub Vediamo un attimino Cosa succede Bro mi devi far entrare Però Dai Meo Cos'è Bevi Prendi strana bevanda Perché no Cosa ho fatto Oh Oh What Dove sono andato Ma Ricordo Ma 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 Ok Nuovo ricordo Ok Mi sa che qua sotto Non c'è nient'altro Però Non lo sapevo Ragazzi Cioè Mi è Dai Torniamo su Volevo Volevo far cadere la bottiglia Detto onestamente Ma vabbè È un altro discorso E allora ragazzi E' che per questo video è tutto Siamo riusciti ad entrare nel nightclub E nel prossimo episodio Andremo a vedere cosa succede Io vi ricordo di lasciare a like Se siete via E condividere Per aiutare il canale a crescere E detto questo Ci becchiamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao